...delle...cafate, passiamo a me la mia prima parte... ...e...io ho fatto proprio da tutti questi quadri... ...che vicino un'altra parte... ...ma così... ...eco, da tutti questi quadri per... ...con un'una del percorso della mamma... ...i molti di questi quadri, se volete... ...di scorsi del momento... ...studiamo tutto oggi... ...dopo che per secoli... ...non c'hiamo tanti... ...paregli anni almeno... ...non c'hanno mai... ...non c'hanno mai... ...ehh... ...allora... ...ilucidiamo tutto... ...dopo che ormai da secoli... ...di questi tutti... ...perché il nostro adenato... ...d'anni piccolato... ...e l'altro giurato... ...però noi dobbiamo mettere presente... ...che gli altri... ...che producono questi brutti... ...hanno... ...semi... ...ma in realtà la mamma è così... ...perché... ...il seme... ...è... ...un metodo di propagazione... ...delle... ...delle piante... ...ed è il metodo naturale... ...di propagazione delle piante... ...però... ...delle piante di propagazione... ...per cui... ...il seme... ...contiene una ricombinazione... ...del DNA... ...de due genitori... ...quindi... ...con il campo umano... ...l'individuo che noi otteniamo... ...non è completamente uguale... ...ne all'uno... ...ne all'altro genitore... ...metodo di propagazione... ...e un'eperturo di propagazione... ...eppertutto di77... ...istamente... ...in questo metodo di propagazione... ...prevede... ...il pre-resistenza... ...- Ingli piante di organi... ...specifici... ...questa volta aerea... ...l'angolo vegetale... ...e... ...e... ...una volta aerea... ...it disturbance... ...che ogni altroletterano... ...con dello spagno... ...si aspetta... ...che i rep lamigini... ...o messi in Heyümü le gambe... sulle sere molto particolari, condizioni di mani contro l'uomo. Se dobbiamo fare una concentrazione su questi due metri, che abbiamo visto prima di pensare sulla parte biotecnologica, il seme non dà certezza alla discendenza, in quanto è soprattutto nell'espazio. La diffusione non fa la sede, perché tutti i risultati sono ben consci che acquistando una pianta c'è poi il rischio di acquistare anche i patologici. E' per questo che poi hanno certezza le certificate. Ci sono questi due metri che riferiscono per una ventina di differenze. L'ultimo metri...